Mi pare prematura questa discussione, dovrà dibattere il Parlamento e comunque ribadisco, io penso che un intervento armato è sempre e comunque l'extrema razio, quando tutte le altre strade possibili sono state esplorate senza esito. Non mi sembra che siamo a questo punto e quindi io consiglierei molta prudenza ancora nella nostra discussione e nel nostro dibattito.